Benvenuti a Tantam, oggi parliamo di turismo. Quali sono i progetti che si possono sostenere per la ripresa del comparto, quali sono le criticità. Ne parliamo con Marco Mastriani, consigliere regionale Ente Fauna siciliana, componente del Consiglio regionale Protezione e Patrimonio Naturale della Regione Sicilia, operatore turistico. Benvenuto Marco. Grazie a voi. Dunque Marco, erano da 17 anni che si attendeva un decreto attuativo, il decreto attuativo della legge regionale 8 del 3 maggio 2004. Ecco, una legge che ha finalmente istituito la figura della guida ambientale escursionistica e naturalistica, ha riconosciuto più che istituito, perché appunto tu ci dirai che... Sì, aspettavamo da oltre 17 anni dalla legge regionale numero 8 del 3 maggio 2004, in cui è così menziona la figura della guida ambientale escursionistica. Al di là poi delle varie vicissitudini normative che ci sono state all'Assemblea regionale con alcune modifiche a cui chiediamo di, diciamo, rimettere mano per finalmente ridefinire alcuni aspetti normativi, finalmente la Regione Siciliana e l'assessorato regionale al turismo ha emanato il decreto assessoriale numero 33 del 19 gennaio 2021, in cui istituisce di fatto un elenco ricognitivo. Quindi tutti coloro che hanno i requisiti professionali per poter richiedere l'iscrizione all'elenco ricognitivo possono farlo e sarà un elenco che verrà aggiornato trimestralmente dalla Regione Siciliana. E questo è un riconoscimento importante perché non solo intanto dà dignità professionale a quasi un migliaio di lavoratori, di fatto che a oggi operano in Sicilia, ma finalmente, diciamo, colma una vacazio legis, cioè colma un vuoto esistente in questo aspetto delle figure professionali turistiche che sono importantissime in tutta Italia e ancora di più in Sicilia, perché si punta finalmente sempre di più sul turismo a 360 gradi e chiaramente non possiamo più permetterci di avere delle inadempienze amministrative sul riconoscimento delle figure professionali e quindi questo è un provvedimento importante che aspettavamo, richiesto da diverse realtà associative e che finalmente ci mette in condizioni anche di poter operare con più serenità all'interno delle tante aree protette esistenti in Sicilia, aree di particolare importanza ambientale e naturale e finalmente questo serve anche a dare una maggiore sicurezza, per esempio, ai tour operator, alle agenzie di viaggio che sanno di doversi e di potersi affidare a dei professionisti qualificati per poter accompagnare in sicurezza gruppi singoli o organizzati anche di più persone all'interno di queste aree e quindi ci consente anche di essere al passo con altre regioni d'Italia che avevano già provveduto, legiferato e emanati i decreti attitivi in Italia già da diversi anni. Da diversi anni, ecco. Marco, però appunto queste guide naturalistiche, ambientali esistevano già, sono circa mille, giusto? che operano sul territorio da sempre, grazie ad una legge che già esiste. Ecco, cosa è successo adesso? Esattamente cosa è cambiato rispetto a prima? Esisteva la legge che è la, diciamo, legge del 3 maggio 2004, numero 8. In corso d'opera ci sono state delle modifiche che hanno abrogato alcuni articoli di questa legge e oggi in virtù di una legge nazionale, la 4 del 2013, ecco, consente di poter di fatto emanare un elenco ricognitivo in cui possono essere iscritti coloro che hanno i titoli professionali e i requisiti professionali, ovvero coloro che hanno svolto dei corsi professionali presso enti di formazione chiaramente accreditati, presso la regione siciliana o anche altre regioni essendo un titolo equipollente, o essere iscritti presso associazioni di categoria che sono riconosciute dal MISE che è il Ministero dello Sviluppo Economico e quindi sono delle associazioni specifiche che si occupano appunto della categoria delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche. È chiaro però che in questo aspetto noi chiediamo di poter fare un passo in più, intanto è un elemento importante che ci consente di colmare un aspetto amministrativo importante però per esempio ad oggi tutti i laureati in scienze ambientali, naturali... Ecco, questo è un altro aspetto che deve essere approfondito appunto perché manca nella legge il riconoscimento al ruolo di guida di alcune figure importanti. Diciamo, nel decreto non si fa menzione e in un certo qual modo lo capisco perché è un elenco ricognitivo e quindi prende diciamo in esame lo status quo della situazione però allo stesso tempo è chiaro per questo diciamo che è un'urgenza mettere nuovamente mano alla legge regionale Ottono del 2004 perché i laureati in materie ambientali, naturali, geologiche e biologiche quindi gente qualificata che ha un titolo di studio, anche un titolo di primo livello deve ovviamente in maniera legittima poter aspirare a conseguire magari con un esame aggiuntivo perché essere laureato è importante ma è chiaro che poi per svolgere la professione bisogna sicuramente approfondire alcune tematiche che sono specifiche proprio per il ruolo. Certo, alla professione sulla capacità di accompagnare persone in sicurezza e sulla possibilità di ovviamente avere anche delle tecniche di conoscenza e di accompagnamento anche di primo soccorso, elemento importante che ovviamente è indispensabile perché svolge questa professione e quindi chiediamo diciamo anche in questo caso alla regione siciliana e all'assemblea regionale di poter apportare queste modifiche che noi già abbiamo fatto per venire come proposta all'assessorato regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo con diverse associazioni e che chiediamo di poter definire in maniera diciamo definitiva questo aspetto e di poter dare anche una speranza a coloro che vogliono intraprendere questa professione e poter portare avanti anche un principio di riconoscimento legittimo per i tanti giovani laureati che aspirano appunto ad avere un riconoscimento importante. Ecco Marco, tu come consigliera regionale Ente Fauna Siciliana e le altre associazioni le ricordiamo che sono ASD, Camminare i Peloritani, Unione Generale dei Consumatori Sicili, Associazione Profumi di Sicilia, Centro Turistico Giovanile Sicilia, Associazione Culturale Universitari di Siracusa Le Aquile di Prometeo, Associazione Culturale Tempo, UGL, UTL Siracusa e il Forum Agenda 21 Locale Noto. Ecco quindi sono tante. Tu con queste altre associazioni hai sostenuto da sempre l'esistenza, ecco la possibilità di avere questo decreto attuativo in alcuni incontri anche di recente appunto avete cercato di sollecitare, ecco finalmente è arrivato. Ora cosa accade con il bando Sicili? È stato fatto sì dalla regione siciliana un bando utile e importante che mette a disposizione dei voucher turistici per tutti e coloro che verranno a visitare la Sicilia nei prossimi anni. Dal primo avviso in quanto mancava questo riconoscimento le guide ambientali escursionistiche erano state escluse. Sappiamo probabilmente che è intenzione dell'amministrazione regionale poter provvedere appunto al riconoscimento anche di un voucher turistico per coloro che vogliono fare anche delle escursioni o visite guidate all'interno delle aree protette e quindi chiediamo all'amministrazione regionale di poter inserire ciò che non era stato fatto prima perché mancava il decreto assessoriale, quindi il decreto attuativo con l'elenco ricognitivo delle guide ambientali escursionistiche e quindi di poter chiaramente mettere al passo anche le guide ambientali con altre figure importanti come le guide turistiche, gli accompagnatori, le guide alpine, le guide subacquee, accompagnatori di media montagna che già operano, esistono e che giustamente sono state inserite nel bando Sicili. Quindi chiediamo, lanciamo un appello all'amministrazione regionale che si possa e mi permetto di aggiungere in un momento di crisi come questo in cui speriamo e tutti quanti aspettiamo positivamente che possa esserci comunque una discreta stagione lavorativa turistica anche se chiaramente le statistiche anche dell'ENIT, Agenzia Nazionale per il Turismo, ci dicono che salvo particolari difficoltà passeranno almeno un paio d'anni prima che potremo tornare sicuramente ai dati degli anni precedenti e quindi anche in questo caso poter dare un aiuto ai professionisti e ai lavoratori è sicuramente un segnale importante anche di sostegno e di vicinanza da parte dell'istituzione regionale. alle tante famiglie. Marco, come ripartire nel campo turistico dopo, anche durante questa grave crisi economica? Sicuramente noi diciamo da tempo una cosa, abbiamo approfittato purtroppo di questa sosta forzata per poter riuscire a organizzare per esempio alcuni percorsi nuovi, alcune attività di trekking e anche di promozione. Quindi dico e diciamo da operatori, sfruttiamo questo momento per colmare tutte quelle lacune che purtroppo ci sono, anche da una semplice possibilità di fare delle strategie territoriali fra appunto gli operatori turistici e le amministrazioni locali e poter immaginare la capacità di realizzare e di costruire un prodotto turistico natura che ci consente di realmente far conoscere in maniera attenta e sensibile il grande patrimonio ambientale e naturale che offre la regione siciliana e la provincia di Siracusa. Ricordo che in Sicilia esistono oltre 70 riserve naturali, 4 parchi regionali, 7 aree marine protette, un parco nazionale che è quello dell'isola di Pantelleria e tante aree di particolare importanza ambientale e naturale che meritano di essere visitate. In provincia di Siracusa ricadono alcune di queste riserve naturali e allora ecco facciamo strategia, sfruttiamo questo momento per offrire anche maggiori servizi per coloro che ci verranno a visitare e verranno a fruire le bellezze culturali e ambientali del nostro territorio sediamoci intorno a un tavolo, discutiamo e cerchiamo per esempio anche io immaginavo facciamo in modo che ogni comune che ha una particolare vocazione turistica della provincia di Siracusa e sono quasi tutti ormai perché giustamente offre tanto il territorio e un primo segnale importante sarebbe quello per esempio di avere almeno un punto informativo efficiente aperto tutto l'anno, tutti i giorni, con personale qualificato che possa conoscere i siti da poter suggerire ovviamente ai turisti, ai viaggiatori, ai visitatori e già riuscire a offrire un servizio del genere ci consente di fare un passo avanti se ci pensiamo ancora oggi molti comuni non riescono a poter offrire un servizio del genere che non significa orari di ufficio, significa tutto il giorno perché gli orari di un fruitore, di un turista non sono quelli di un ufficio pubblico e quindi poter essere aperto tutto il giorno magari anche fino alle 22 di sera aperto anche durante i festivi con personale qualificato che conosca il territorio che parli le lingue straniere e che veramente ci mette in condizione di essere al passo per esempio io porto sempre come best practice il Trentino Alto Adige che è una di quelle regioni che ovviamente ha fatto dell'ecoturismo un punto di forza e che veramente riesce ad attirare un numero di turisti e di viaggiatori importanti e che quindi può essere preso sicuramente anche per certi aspetti cosa che si può fare anche qua, si deve fare, si può fare siamo a febbraio, abbiamo bellissime giornate perché abbiamo un clima mite, temperato e quindi questo ci deve mettere in condizione di rafforzare, di puntare su questi elementi positivi questi punti di forza noi abbiamo tantissimi attrattori naturali e culturali ma dobbiamo veramente ottimizzare i servizi questo lo si può fare collaborando in maniera questo è un servizio istituzionale certo ma anche in maniera mista pubblico privata cioè fare in modo che l'ente pubblico possa collaborare con gli operatori e dire finalmente abbiamo risolto un problema atavico che ci consente di avere dei punti informativi efficienti e aperti certo, ecco quali segmenti di sviluppo turistico può aspirare ad attrarre la provincia di Siracusa? ma sono tanti perché la nostra provincia grazie al clima e grazie alle tante testimonianze culturali, ambientali, naturali, archeologiche, artistiche, gastronomiche, etno-antropologiche ci consentono di poter aspirare a lavorare con tanti segmenti di turismo da quello giovanile, universitario, culturale, ambientale, naturale, archeologico, artistico, religioso importantissimo, congressuale ma lì sicuramente bisogna mettere in campo una maggiore strategia per avere strutture adeguate a ospitare appunto centinaia o migliaia magari di persone contemporaneamente anche con strutture di incoming che possono consentire di offrire servizi di accoglienza turistica adeguati partiamo da quello che abbiamo cominciamo a valorizzare il nostro territorio cominciamo a creare servizi è chiaro però voglio dirlo in maniera molto diciamo trasparente va fatto in maniera congiunta fra le istituzioni e i professionisti del settore non abbiamo bisogno di tutologi perché il turismo è una disciplina importante è un mestiere è un mestiere che ha bisogna essere dei professionisti per operare in questo settore ecco ricordiamolo, diciamolo perché non è un campo nel quale ci si può muovere non ci si può improvvisare senza appunto la giusta preparazione e quindi bisogna mettere in campo una strategia che crei una sorta di sistema turistico locale così come prevedeva per esempio la legge 135 del 2001 e quindi di poter far collaborare le amministrazioni pubbliche con gli operatori del settore domandarsi quale strategia attuare per mettere in campo strumenti utili rivolgersi agli operatori che conoscono il mercato noi annualmente facciamo delle customer satisfaction con i nostri clienti perché vogliamo capire in cosa possiamo anche peccare quali aspetti positivi, quali aspetti negativi, quali esigenze quali punti di forza, quali punti di debolezza e poterci migliorare lo facciamo da privati, da operatori turistici ma questo deve essere anche diciamo il simbolo di un modus operandi quindi facciamo in modo che le istituzioni che possono fare tanto e che hanno bisogno di personale qualificato per ottimizzare l'offerta culturale di questo territorio ricordiamo sempre che se riusciamo a prolungare la permanenza media oggi le statistiche in provincia di Siracusa ci attestano un dato intorno a due notti e mezzo cercare quasi di raddoppiare questa permanenza media e chiaramente ne avrebbe un vantaggio tutto il territorio anche perché comunque le risorse della provincia di Siracusa sono tante quelle da offrire ai turisti sono tante non solo stranieri ecco Marco ma quali sono i punti di criticità del comparto? intanto c'è bisogno realmente di una strategia quindi sederci intorno a un tavolo che potrebbe essere anche quello del libero consorzio comunale della provincia di Siracusa che per legge fra l'altro ha questa prerogativa di immaginare insieme ai comuni e agli operatori delle strategie generali legate al turismo chiaramente i singoli comuni gli operatori ma cercare di immaginare anche la possibilità di fare un decalogo di cose da attuare e in primis un'altra criticità enorme purtroppo che noi ancora abbiamo e soffriamo è quello di un'assenza di trasporti se oggi il turista da Siracusa vuole andare a visitare Pantalica vuole andare a visitare Vendicari vuole andare a visitare Cavagrande del Cassibile o si offida a un servizio privato o si affitta la macchina oppure non ci va questo diventa un deterrente per prolungare la permanenza media anche perché non tutti coloro che vengono da noi in vacanza hanno la possibilità di poter affittare giornalmente una macchina che comunque ha un costo e quindi se noi riusciamo le istituzioni insieme ai privati a immaginare dei servizi di trasporto anche con l'ausilio dei privati magari convenzionati tramite ovviamente bandi di evidenza pubblica si faccia in modo di coinvolgerli anche in un periodo importante magari in un periodo di alta stagione consentire alle persone di poter andare a visitare posti oggi irraggiungibili e quindi noi non vediamo un fenomeno di trasferimento anche verso altre province ma li incentiviamo a restare qui e a immaginare anche dei servizi univoci su tutto il territorio che consentano appunto ai nostri fruitori di poter dire per esempio siamo arrivati in un territorio in un'area vasta così oggi come viene definita organizzata se io penso a una guest card che fanno in Trentino dove comprendono oltre 60 musei fra iniziative e servizi che poi possono essere anche comprati extra ecco questo ci deve dare l'idea della differenza fra quello che funziona sul mercato e quello che oggi non c'è dobbiamo essere ottimisti possiamo costruirlo ma iniziamo a metterci al lavoro le prospettive per il futuro ecco dove dobbiamo arrivare abbiamo capito che dobbiamo aumentare l'offerta nel settore dei trasporti quella nel settore comunque della fruizione dei biglietti ecco in maniera più semplice in rete su cos'altro possiamo puntare? intanto dobbiamo puntare seriamente su una destagionalizzazione del turismo quindi non è sicuramente importante poter lavorare nei mesi estivi ma non basta noi abbiamo delle potenzialità inespresse e inutilizzate e quindi in quel periodo che va da fine ottobre fino a marzo, aprile puntare realmente su una destagionalizzazione che ci consente di poter far lavorare gli operatori turistici anche se in maniera magari diciamo con minori affluenze ma costante e per poter far questo intanto serve professionalità noi dobbiamo professionalizzare sempre di più il settore da quello dell'incoming a quello dei servizi aggiuntivi a quello dell'outgoing cioè fare in modo che gli operatori siano realmente qualificati in tutti i settori secondo serve una strategia di marketing del territorio fare in modo che attraverso per esempio un portale univoco si possano reperire informazioni semplicemente sull'apertura dei siti su come raggiungerli su poter acquistare i biglietti su poter avere informazioni turistiche o poter acquistare servizi aggiuntivi terzo poter avere anche degli accordi con le compagnie aeree e fare in modo che si possa poter far arrivare le persone i turisti in un periodo di destagionalizzazione a prezzi anche magari ridotti irrisori fu fatto qualche anno fa una buona esperienza dalla ex camera di commercio di Siracusa in cui ecco si volava e si veniva in vacanza anche in inverno quindi ecco riprendere anche delle buone iniziative portate avanti e fare in modo che si ritorni e si ritorni nei luoghi che poi comunque la Sicilia piace e la provincia di Siracusa è molto bella ma mettiamo anche le persone in condizione di ritornare anche in un periodo di destagionalizzazione che magari non andranno a fare il bagno a mare che è sicuramente il mare una delle ci sono infatti tanti altri itinerari che si possono seguire quello ad esempio della produzione del vino perché da noi comunque il vino è uno dei prodotti maggiormente diffusi richiesti siamo la regione che produce più vino in tutta Italia ecco quindi si può puntare sull'enogastronomia insomma c'è un segmento di turismo che è quello dell'enoturismo dove chiaramente si promuove la conoscenza del territorio anche attraverso la pesca ecco se penso adesso la pesca turismo oggi il turismo si caratterizza sempre di più per essere diciamo incentrato su un turismo esperenziale cioè su un turismo che possa consentire alle persone di vivere un'emozione e quindi non tanto la destinazione ma il viaggio quel modo di vivere quell'emozione unica e poi noi siamo calorosi siamo accoglienti in questo siamo bravi perché comunque ecco il nostro DNA che ci porta ad essere sicuramente predisposti anche ad avere un rapporto col pubblico però bisogna farlo con professionalità bisogna specializzarsi bisogna studiare bisogna immaginare io per esempio mi chiedo perché non immaginare che la Camera di Commercio o anche i comuni o la provincia possono organizzare anche dei corsi per esempio per gli operatori che non debbano necessariamente essere delle qualifiche ma che servano anche per dare nozioni e principi di cultura generale per accoglienza turistica e che magari possano aiutare quelle persone che magari gestiscono tante strutture extraalberghiere anche a imparare le lingue che non è soltanto l'inglese che non è soltanto l'inglese c'è lo spagnolo ci sono altre lingue e quindi le persone gli operatori io mi sono reso conto ormai sono quasi 20 anni e faccio questo lavoro mi sono reso conto che le persone hanno voglia di imparare hanno voglia di qualificarsi e hanno voglia di raccontare anche fare storytelling raccontare le esperienze raccontare il territorio e magari immaginare anche degli educational dove noi magari operatori guide accompagniamo le persone che gestiscono delle strutture a far conoscere i posti perché tu non puoi promuovere a un turista di visitare l'Etna o il parco dell'Alcantara o Vendicari o Cavagrande se non ci sei mai stato è chiaro che sarebbe un racconto indiretto perché magari lo hai letto o perché te lo hanno raccontato ma se tu racconti un'esperienza vissuta sicuramente quel pathos quella passione nel poter raccontare quell'esperienza vissuta è un qualcosa in più che tu trasmetti al turista e al visitatore e che ti può veramente qualificare e essere un plus valore nella scelta sicuramente di un'esperienza da vivere io poi quando accompagno le persone ci dicono sempre avete una terra bellissima rimangono stupiti dai colori dagli odori dai sapori viviamo in un territorio che offre tantissimo anche da un punto di vista della biodiversità basti pensare che solo nella Sicilia sud orientale si concentrano oltre 1500 specie diverse di pianta fra specie e sottospecie delle 3000 censite in Sicilia quindi questo ci dà la percezione ci dà l'idea veramente che c'è un grande patrimonio da valorizzare una bellissima regione certo ma da far conoscere e anche da un punto di vista enogastronomico perché se immaginiamo che di queste 1500 solo 300 sono commestibili il tasso è altissimo e quindi veramente possiamo aprirci ma dobbiamo farlo in maniera seria e qualificata ecco una sola parola per promuovere ecco il turismo in Sicilia su cosa? tre parole impegno collaborazione e speranza bisogna lavorare in maniera soda le cose non accadono per caso bisogna fare programmazione bisogna studiare bisogna fare strategie e bisogna sedersi intorno a un tavolo quindi collaborare fra operatori e con le istituzioni perché soltanto se mettiamo in campo delle strategie riusciamo a ben posizionarci sul mercato e non immaginiamo che gli altri territori dormano tutt'altro vanno e crescono tantissimo basti pensare a tutto quello che ha fatto anche negli ultimi anni la Puglia che è diventata una regione molto ben richiesta gettonata bellissima io quando posso ci vado e ne sono rimasto molto affascinato anche dai miglioramenti che sono stati attuati soprattutto anche nel campo dei trasporti sono stati veramente bravi a creare diverse linee di trasporti che consentono al visitatore di poter collegare facilmente una parte e l'altra della regione la speranza dobbiamo essere ottimisti perché soltanto sognando che riusciamo a raggiungere gli obiettivi abbiamo un patrimonio enorme abbiamo la voglia di fare dobbiamo mettere in campo in maniera seria questa nostra voglia di fare questa speranza e immaginare che possiamo veramente fare tanto e che comunque le statistiche nonostante tutto ci dicono che c'è sempre più richiesta di Sud Italia e questo è importante perché ci consente di poterci posizionare all'interno delle scelte dei nostri turisti perché abbiamo un'identità culturale questa identità culturale che poi si specifica in tutto quello che facciamo in tutto quello che prepariamo e come operiamo ci consente di diversificarci positivamente sul mercato puntiamo sulla nostra identità culturale ringraziamo Marco Mastriani grazie a voi operatore turistico ma anche consigliere regionale ente fauna siciliana componente del consiglio regionale protezione patrimonio naturale della regione siciliana grazie a voi 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 grazie a voi